e via partiamo con questa diretta allora visto che non sto tanto bene che non esce nessun video oggi che è venerdì e sono passate le 19 sto facendo questa live su facebook che al momento accendo e devo girarmi non posso non la vedo da qua perché ho messo il coso lì come si chiama la fotocamera frontale ok non quella frontale l'altra insomma lo schermo sta dall'altra fa raga non sto bene perdonatemi quindi adesso vado di là e faccio schiaccia che partiamo non ci vedo non vedo una nespola partendo vabbè partiamo bene ecco è partito ci siamo siamo in live e ora ci sono quei momenti quelli tragici quei primi cinque minuti in cui non c'è nessuno e quindi tu ti ritrovi a parlare da solo come un cretino sperando che qualcuno si colleghi e veda quello che stai facendo ma intanto tu stai parlando da solo come un idiota e che devo dire tutto ok sono qua e prima o poi arriverà qualcuno me lo auguro nel frattempo sto anche cercando di registrare vediamo se ce la faccio stavolta perché ogni volta è un trauma voglio provare a registrare questa live sul computer collegando il telefono al computer così almeno poi lo posso sbattere su youtube se ce la facciamo non lo so o ce n'è uno fa c'è un alessandro che fa e noi facciamo sto benissimo sto bene non c'è problema benvenuto alessandro perché l'altra s era troppo quindi alessandro ci raggiunge anche una corin mantineo che dice ciao tesoro ciao stellina come stai tutto bene e continuiamo ad aspettare che arrivino persone alessio monotti l'immancabile alessio monotti che dice ciao vergine noi lo salutiamo ciao alessio monotti ciao e scusate la voce ma più di questo non riesco a produrre quindi io spero che mi sentiate ditemi che mi sentite ci prova a parlare più forte ci sto provando questo è il massimo che riesco ad arrivare nicola debora luoghi scegli nicola o debora uno dei due perché sennò mi confondi ciao bellissima ciao bellissima mu perché non so se sei nicola o se sei debora quindi ciao bellissima alessandro in termini di crisi mi sbambia sulle s beh auguri ok vabbè non so cosa ci farai con quella s in più ma quanto posso adorarti sei sempre super educato e simpaticissimo ah tesoro e che sto malato e quindi per forza sono carino e coccoloso alessio dice sei riducibile ma non posso non posso non farvi un video che poi mi stressate io già già c'ho gli stress miei ma figurati se poi non mi faccio un video un po' da dove è il video dove è il video è qua il video cioè sta sta arrivare e sono in vai più di più vita di questo ciclori ciao auguri guarisci e speriamo debra tarabbia ciao salutiamo anche a nicola e debora e tutte e due allora ti chiamerò andrea che è il nome più generico del mondo marina cisini dice un abbraccio a tutti grazie grazie mille roberto di carlo ciao malaticcio ciao tanti germi a te benvenuti in questo live random veramente molto random anche perché in realtà non lo so neanche io se riesco ad arrivare alla fine io ci spero me lo auguro proprio scusate se ho questo colorito che non so credo che sia tendente al grigio che proprio il mio colorito non è che è un difetto della videocamera da proprio il mio colore oggi e quindi accontentatevi non lo so se magari questo video riesce che riesca a salvarlo in post produzione di rispettarmi un colore roseo e carino non ne ho idea ma in ogni caso sono così questi giorni sono tre giorni in cui la febbre che è pepemme saltata è arrivato al classico a me succede tutti i cambi di stagione mal di gola mi viene il grattino proprio qua nell'interno gola viene questo raspino tossisco come un dannato poi mi prude il naso comincio a star male e dopo niente febbre a 5 milioni e dopo di che colo io fra un paio di giorni comincerò a colare proprio da qua da su da giù da per tutto colo e quindi questo è il mio tran tran annuale con i cambi di stagione però che bello sta arrivando al fresco yeeey non è vero io sto sudando come una capra come una forma di parmigiano lasciata al sole ma questo è in realtà che sto scrivendo e non mi sto cagando ehm ehm si pronto a quel giorno si ce la farò francesco paoli zambale intendente allo zio fester esatto esatto sono proprio quello adesso si accendono ancora più luci mi illumino come lui mi posso ficcare anche una lampadina in gola che tanto guarda siamo a quel punto spero che passi presto la febbre odio il mal di gola quindi ti capisco benissimo lo so lo so lo odio anch'io anche perchè poi non dormo la notte proprio anche perchè comincio a respirare tipo così ed è brutto perchè fa veramente male perchè più respiri più ti si secca la gola e più ti si secca la gola più ti fa male ma già ti fa male prima quindi è un momento molto così ti faccio un cappuccetto nella sala non ci vedo ma cos'è mi fa ridere che sto male sono malato io rischio di morire qui in diretta uffa che palle voglio stare male odio stare male anche perchè avevo programmato un bel video scusate ci sono gli infanti del palazzo di fronte che gridano spero siano morti di nuovo ho programmato un bel video caruccio caruccio per questa settimana che non ce l'ho fatta a fare non ce la facevo sapete come sono i miei video che ci metto 10 milioni di personaggi 4 mila roba e non ce la facevo non ce la facevo non di ficcarmi roba in faccia quindi addosso cosare non ce la potete fare ma ce l'ho lì ce l'ho scritto se faccio il bravo io non voglio se faccio il bravo lo faccio per vedere di prossimo così almeno siamo tutti felici e contenti e poi la febbre si pochettino poco di febbre adesso perchè sono imbottito di tachipirina tipo che ingoiate come fossero tic tac e se me la misurerò in questo preciso momento ma dovrebbe essere scesa prima era tipo 37 qualcosa eeeh 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 ieeeh eeeh 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 ecco, no, 37.1 faccio vedere le prove 37.1 non mi sto inventando balle non è febbre, quindi va bene oh, ciao, Leo non è febbre, quindi la tachiperina sta funzionando le varie cose che prendo stanno funzionando, e la felicità la gioia e il gaudio ce la possiamo fare allora, Tebra Tarabbia dice quei termometri non funzionano praticamente mai no, no, funziona, no, è carino il mio termometro, è simpatica è una brava persona il mio termometro mi dice sempre le cose carine tipo stai morendo, a volte mi dice anche che la mia temperatura interna è al di sotto dei 36 gradi canonici quindi, va bene vuol dire che sono un alieno un serpente, non so e quindi, no, ma io che sono regina dei ghiacci è vero, lo sono quindi non fate quelle facce che vi vedo lo so benissimo, no, lo sono e allora mi rende felice che magari mi dice sai, la tua temperatura è di 34 e 5 e io dico, eh, bene ok, sono pronto per essere non lo so, sepolto Corinna è già la prima che ci lascia ciao grazie per essere ritorno questo deve essere un video veloce un po' tipo da non perdere tempo col fatto che che non c'è il video normale questa settimana si sente casino è il coinquilino che si aggira per casa abbiate fede fa le sue cose non si introduce qua e che ne so di cosa parliamo? è normale che segni di meno una volta mi avrà segnato 32 e 3 quello è un po' grave però io mi farei controllare per 32 e 3 è un po' troppo poco forse credo suppongo che non sia proprio io mi sono fatto passare una febbre a 40 con tachipirina antistaminica e un cicchetto di rum o la morte o la pulizia bravo così ci piace evviva ti vai di rum il rum fa bene anch'io sono la regione dei Remi con la temperatura interna sotto la media brava Giorgia così ci piace io in genere proprio non ho neanche battito cardiaco perché non ce l'ho quindi il cuore intendo non ho mai avuto uno che stava di boh non mi ricordo e evidente in questi giorni mi sono stato a casa ho guardato ho guardato uomini e donne quello con con i pisellini che ci provano l'uno con l'altro come se non avessero già abbastanza altri modi per farlo ma siamo contenti che almeno questo tabù sia crollato in tv e li conoscono tutti tra l'altro figurati no ma nel vero senso da parlare questa è una cosa abbastanza grave il fatto che li conosca però sono contento per loro spero che almeno in tv trovino qualcuno qualcosa con cui passare momenti lieti edoardo ce ne morisci qui necessitiamo di video lo so lo so lo so lo so anch'io anch'io ho questi cali momentali di prestazione e ma tornano i video tornano promesso che tornano dicevo appunto ne stavo facendo uno appunto per la scuola visto che alcuni di voi sono a scuola in questi giorni io mi sento così voglio dare il mio contributo a voi e so che questo video vi farà molto piacere perché è un video utile è un video utilissimo è uno dei miei video sulle 5 cose i 5 modi per ciao Alessio ciao grazie si guarirò ho promesso che guarisco diciamo sono uno dei miei 5 modi 5 cose 5 oggetti queste cose qua che vi torneranno utili per la scuola soprattutto adesso che appena inizia l'anno dovevo uscire adesso ma uscirò la prossima settimana quindi devo un po' cambiarlo perché quello che volevo far uscire adesso settimana prossima non sarà più valido sì che lo cambierò un pochino e poi e poi e poi la sua bk abbiamo visto è finita la settimana scorsa la prima stagione è finita sono molto contento di come sia andata e sto già stiamo già pensando in realtà io a Aurora per jesse alla seconda stagione che ripartirà forse da marzo questo lo vedremo più avanti e forse cambierà qualcosina in genere oh poi dicevo Francesco scrive ma la vergine di potete ho scoperto così nostalgica oh amore io la odio quella str... quella panciulla quella bella ragazzuola la odio non capisco come fate ad amarla così tanto però vedrò di fare in modo di accontentarvi forse vedremo come se vi comportate Luca Cefalo finalmente il karma ti ha fermato amore santo se sono qua a fare video live malgrado tutto credo che niente possa fermarmi sicché su cara si diciamo vabbè comunque niente ho passato questi giorni a letto tipo come una salva e ho guardato quello ho guardato questi uomini e uomini uomini ma anche uomini e donne perché c'erano anche delle donne malgrado fossero uomini però comunque li ho guardati alcuni tanto carucci ovviamente subito ci sono stati questi discorsi da parte di altre persone che mi hanno fatto veramente molto sorridere e ma vabbè mi chissà se voi l'avete visto avete visto qualcosa l'avete guardata sta roba oppure no fatemi sapere perché io ho il mio pensiero sapete che io ho il mio pensiero ho le caldane questa è la menopausa ho le tette gonfie comunque fatemi sapere se voi avete qualche pensiero a riguardo se vi è piaciuto se volete partecipare mi raccomando a proposito di partecipare qualche giorno fa scusate qualche giorno fa ho fatto il post su tutti i socials che se voi avete qualche amico eterogorioso e vuole fare delle domande ad un gay ma non ne ha una a disposizione o si vergogna a farle pubblicamente ditegli di mandarmi le mail visto che ho fatto il video tempo fa rispondendo a quel quel ragazzo che poi ha anche risposto tra l'altro con un commento è stato carinissimo ho visto che vi è piaciuto allora se conoscete qualcuno arriva mandatemelo ditegli che può anche scrivermi via mail che io gli risponderò tranquillamente senza offende cioè con me non vi tratto male se poi sono omofobi e cattivi ancora meglio ancora meglio mandatemeli e allora ci penso io e non vi tratto bene cioè non vi tratto bene ma gli insegnerò qualche cosina aspetta qua arrivano Francesco dice pensa positivo di avermi mandato la presa asciuga che è una meraviglia ma magari mi è sfuggito non so se lo guarderò non sono convinta che sia utile ma forse sbaglio baci senza bacilli grazie un bacione anche a te che mi invidio che è più salutare ecco questo è il massimo del rapporto umano che posso avere in questo periodo e si si scrive nel loro la vergine ipotesi vediamo se torna quell'altro ok l'ho detto non lo so sto inventando sto inventando proprio alla grande se voi volete chiedere qualcosa fate pure perché non funziona oggi quindi andate parlate cosate dite io intanto ho veramente le pezze ma un momento ho freddo un momento poi comincio a sudare come il pecorino lasciato al sole e adesso non vedete perché la maglia è nera è appositamente scelta così nera perché così almeno non si vede proprio la pezza mi sembra una geoc strasudo e questo non è un prodotto praticamente ho anche lo schifio delle tampade poi oltretutto metti i due fari per fare in modo che voi vi vedate sotto il sudare guarda guarda non sto scrivendo stia se io continuo a parlare e è niente chi ti accudisce nessuno mi accudisce da solo ovviamente questo è uno dei vantaggi dell'essere singles che ti accudisci da solo dico vantaggi per non dire sfiga ma non importa è tanto bello anche poter stare tranquillamente da soli con il tuo terzo della propria malattia in solitudine tranquillità è una cosa bellissima certo poi ci sono dei lati negativi in questa cosa ma vi sorvoliamo con un gran sorriso con una vera propria signora perché sono una signora scusami mi devo doppiare il naso ho detto che avrei sarei grondato della vita cominciavo a grondare e l'allere e poi continuerò comunque parlando sempre di video continuerò a fare questi video che ti fanno diventare famoso perché non sono ancora super famoso siamo più di 5.000 sul canale su YouTube Facebook YouTube però perché tutti fanno questi video diventano famosi perché non io li voglio farli diventare anche un famoso uffa e allora li faccio anch'io e continuerò a farli finché non divento famoso e che palle mi raccomando condividetelo perché anch'io merito di essere famoso con i video che ti fanno diventare famoso e allora dovete condividerlo ecco ecco si adesso dici bene 500.000 però dovete condividere perché sennò la gente non lo sa che ci sono io che faccio i video che ti fanno diventare famoso allora dovete dirglielo dovete andare e dici dici dite dite ditecelo che io faccio i video quelli che diventi famoso e io divento divento ricco e poi mi compro tutto YouTube e poi cancello tutti gli altri canali ci sono solo io ecco molto più pratico così e non devo adottare per essere famoso se non so che sfigarsi bene non lo so se non avete altre domande io da finirei qua possiamo anche salutarci così era proprio una cosa così tra di noi per non perder tempo no non so cosa non so cosa stia passando fuori non so neanche se lo sentite no mi amore come stai tutto ok stop come a 3,7 stop si intanto mi si inceppa le caccone nel naso e quindi cerco di misturarmi però sei arrivata ora ok dai ti dedico 5 minuti solo per te dai anche perché stanno arrivando altre persone salutiamo le altre persone ciao altre persone benvenuti in questo live felice malattia anche a voi vi auguro tutto il bene del mondo e tutti i bacilli e i virus che ci possano essere e ogni volta mi inceppo quando faccio i live vorrei dire tante cose e poi non me le ricordo e allora io parlo random continuo sempre ma sono sempre più random queste cose che bella la vita quando non devi pensare è un flusso mestruale di pensieri mi ci vorrebbe un tampax in goda un saluto dall'altra ciao maica benvenuto altra persona io mi dice ho i capelli pieni di colori ah voglio vedere mandami una foto con i capelli pieni di colori voglio vedere i capelli colorosi Amadini Paolo si unisce direttamente dal nord quello più a nord di tutti che ci guarda e dice che siamo tutti terroni e come si può darmi torto Giuseppe dice ma lo specchio è dietro il letto perché perché no in realtà no perché è dietro lo specchio è quello che quando sto sdraiato mi metto a cercare i brufoli sul naso quello che avevano e quello che so preso effettivamente fa un po' porno a mio 80 però non è che io lo uso in quel senso ma va bene sta lì io che voglio gli specchi sono pieno di specchi in casa sorridiamo alla vita Marta di Marta Favini ciao i tuoi video non sono mai una pezza di tempo ma meno male yeah anche questo certo crediamoci sei bellissimo oppure da malato sei cecata anche se stai bene niente basta no ho adesso un ringagno dietro la schiena tutto questo forse un giorno se tutto va bene vi porto con me da un tatuatore e vi faccio un nuovo tatuaggio qui dove è qui un nuovo tatuaggio voglio fare un nuovo tatuaggio qui ho deciso quello voglio fare e se fate i bravi vi porto con me e vi faccio vedere come mi 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 cosano qui sul braccio commentate mi la mandi la foto ma mandamela sulla pagina mi scrivi un post sulla pagina oppure mi la mandi su instagram oppure su snapchat su twitter facebook che altro ho google plus mandala da qualche parte ho 472 social e ne esistono solo 7 fai un po' te hai tutti i metodi del mondo per mandarmi una foto che te lo dico a fa? a Noemi a signore mio quindi followatemi su Facebook anche se ci siete già su Twitter su Snapchat anche se non lo uso più perché in realtà sto usando molto di più Instagram Stories però mi hanno sgridato su Snapchat perché ci sono quelli che usano ancora Snapchat quindi devo fare delle foto doppie su Snapchat e su Instagram e su Instagram Stories è complicato e poi cos'altro c'ho? c'ho YouTube quindi se non siete iscritti al canale YouTube faccio un culo d'auto e poi Roberto dice si giuro che non ti accorgerai nemmeno della nostra presenza dove? quando? durante il tatuaggio dice no amici ce ne accorgeremo ci faremo accorgere di tutto vi voglio partecipi mentre lo facciamo che poi in realtà lo sto facendo io e mi dice però sarà il mio quinto e siccome 5 è un numero molto importante per me è un tatuaggio molto importante quindi il numero 5 in realtà è importante adesso chiede se esiste ancora Google Plus a quanto pare sì io ce l'ho lo tengo lì per ricordo un po' come quegli altri social cos'è che era? cioè quello Tumblr non ho mai capito che cacchio è però ce l'ho chi se ne pregredi l'avarizia ce l'ho a Youtube non lo sapevo Luca Cetalo deve andarti a vergognare in fondo a sinistra per almeno 10 minuti vai cortesemente vai vai e restaci poi ti iscrivi al canale ma intanto vai e restaci asia loime che carino ioime o loime dice quello che te pare ma da un lato sei comunque un figo ma te prego ma che sta a dire oh Andrea anche Andrea Silicone malattia malaticcia mica l'ho trovato sì ci sono anche su Tumblr ci sono c'è Vergine Orecchie da qualche parte penso mai usato credi di aver pubblicato forse una foto una volta no Luca non ti amo se non ti sei iscritto al mio canale non ti amo ti odio ti vengo a cercare a casa e credimi ho i mezzi per poterlo fare ricordati che io sono la lobby gay quindi fai attenzione a ciò che dici e a ciò che fai chiaro? Andrea sì sei figo Vergine dei miei sti vabbè se lo direi voi che vediamo di qui sono io per dirvi di no guarda mi metto anche gli occhiali faccio ancora quel figo mi metto gli occhiali e cala storti no sono allo spec ecco mi sto bene so fresco Davide Guadagli ciao ciao gioia benvenuto che carina mi piace divertente asiaioi che brata rabbia manda un cuore noi glielo mettiamo indietro già nel senso te ne mando un acchio sto faticando adesso invece sento freddo capito adesso sto congelando e non ho neanche i ventilatori accesi però c'è la finestra aperta entra un po' di frescume e mi asciuga le ascelle che gioia guarda come distruggere con se stessi mostrarsi nel modo peggiore del mondo Andrea Silicone Camper ha detto che domenica parte che ha detto che va a Tenerife mi ha chattato che va a Tenerife o Canaria o qualcosa del genere insomma va a cagare al sud Vergine Fidete se ti dico che sei figo e se lo dici guarda tutto bene tu state a casa e mandami la Vergine Fidete così possiamo prenderti in giro insieme e no e no gioia e no stendo e no proprio no dispiace no non è così che funziona per arrivare a Vergine Fidete devi prima arrivare a me per arrivare a me devi prima iscriverti al canale e condividere almeno 150 volte al giorno e poi dopo forse forse non si sa potrebbe anche essere che te la mando si è detto ma cosa deve fare è un pischetti Francesca Pandolfi la Francesca Pandolfi che ha preso parte alla sessione la salutiamo la Francesca Pandolfi detta vulva sappiate che questa ragazza è detta vulva è una cara persona e la salutiamo tanto tanto ciao vulva benvenuta e allora ho preso il perdo di filo del discorso poi non so che dire mi sta emozionando e allora mi metterò il burro cacao ecco che è mezzo sbagliato voi non scrivete allora non dico niente beh è bello parlare di entrare con voi che state zitti ma ma se siete di compagnia siete persone cattive cattive non è vero vi voglio un sacco bene ma siete cattivi soprattutto Luca Cefalo che non si sfoglia io offenderei pesantemente Luca Cefalo che non si iscritto al canale io farei canta qualcosa da malatticcio ma tu mi vuoi male Noemi veramente male falsa di Gemma i suoi primi appuntamenti perché make up tutorial ma che vuoi vai a vedere i suoi video l'ho già fatto vai a vedere i video che non guardi niente mi assomigli a Moldavia ma non dico in tanti che io assomiglio a Moldavia non so forse perché alla lontana siamo imparentati chi lo sa perché non ho mai capito questa cosa io voglio fare voglio fare uomini e vergini sul mio canale dite che se mi ci propongo che se propongo questo genere di video qualcuno partecipa e cercherà di concupirmi ma che sei tu che non guardi me Andrea sei di icone che vuole ma te hai smesso di fare i video cosa vuoi da me io te l'ho detto sempre di tornare a fare i video l'hai smesso io uso pure il canale quindi che vuoi dicevo se faccio secondo voi se faccio un uomini e vergini vergine così ci sarà qualcuno che viene a fare le sterne con me che mi fa gli appuntamenti agli speed date con me che mi cerca di sverginare io ci devo provare a fare questo perché mi vengono in mente queste stronzate per modo le faccio sai come sarebbe geniale però vabbè non lo so è la malattia questa è la febbre che sale vabbè ma secondo te commento la live di un deficiente a caso senza prima conoscerlo è ovvio che su internet che guardo i tuoi video del Kaiser però mi tratti male questa cosa vabbè devi 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 lo sai ti prego fallo fallo giustamente ha già capito come avrei risposto Alessio non mi conosce non mi ha mai conseguito non dai primi giorni dal primo video mai non l'ha mai fatto lui non l'ha mai fatto Alessio signorivvio e io direi che a questo punto visto che sono le 20 e 21 che è l'ora di cena un po' il potere del fallo viene a me e falla direi che visto che ora è una cena che dire sana marcena e metà chi germi dico scrivete robie forse perché mi perdi pezzi però cristiana guarisci presto sì sei la straccetta un pochetto però sorrido che bello in realtà appena chiudo state di camera mi spalmo e grepo direttamente proprio così però mi sono scaricato tutti Bridget Jones che voglio rivederli perché però poi esce quello nuovo e voglio rivedere tutti Bridget Jones così poi quando mi guardo il terzo almeno ha più senso mi piace quando esce un film nuovo che è un remake di un sequel di un sequel di cui allora me ne riguardo tutti così almeno poi il pello fresco in testa ma beh comunque non mangiare troppo che poi non entri più nelle dirette ma dove di che sei stronzo ma dove di che sei stronzo io fossi in te fossi in te mi prenderei a sberra da solo ecco perché mi stai trattando male è una cosa brutta io che invece voglio bene al mondo non ci credo anche io mentre lo dico però praticamente ho il senso sberra da solo brava dovevi difendimi tu sì che sei carina Luca Cefalo invece che è una pesciarola no non è non è carino ecco basta e niente allora io vi saluto adesso facciamo che che stacchiamo perché Giunz è fatta una certa diamoci un taglio due finché diventati dispari sì con una merda in mano se caga addosso e poi se piglia schiaffi ahio soltanto mi chiamate da solo un correttino l'allero dicevo niente noi ci vediamo comunque venerdì prossimo sicuramente starò bene e il video uscirà e se non vi piace sticarsi lo fate piacere perché quello è quello lo sucate quindi non rompete le palle e poi niente ci sentiamo nei prossimi giorni sui vari social quindi qui su facebook oppure su twitter oppure su instagram instagram stories snapchat e twitter e poi adesso devo riprendere anche con il twitter della lobby che ci sono sempre io che fa il twitter della lobby che io ho rubato l'account non glielo dite però è andato tutto saluto saluto tutti voi che siete stati qua con me che mi avete fatto compagnia per un pochino tutti i nomi che non vedo perché non riesco a vederli non riesco a capire in realtà perché mi sto registrando con la telecamera quella di pietro quindi non riesco a scorrere perché lo schermo sta di là quindi non vedo chi mi ha però noveni alessio la pesciarola marta ciotti monvergi infermiere non ce sta io sono malato e infermiere in contemporanea guarda quanto sto avanti mi ammalo e mi curo da solo questo si che è avanguardia grazie a tutti per essere stati qui con me mi dispiace che non sia uscito un video stasettimana non ce l'ho proprio fatta mi voglio un sacco bene anche se sono malato e e e basta direi che possiamo finirla qua adesso faccio come fanno i vips che vi salutano facendo quel saluto che fanno tutti quanti e e ci vediamo la prossima volta no? ok allora come si interrompe? non si interromperlo no cacchio come si interrompe sta cosa non so interromperlo e qualcuno sa come si ferma la diretta non so fare e vabbè ciao 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 Nembre intanto cerco di capire come si come si ferma la diretta è difficilissimo da parlare fermati stop macchina stop fermato ce l'ho fatta ciao a a a a d a a a a a a Grazie a tutti.